gli animali pensano ad altri animali gli esseri umani pensano solo a loro stessi aperta parentesi tonda parenti chiusa parentesi tonda nel video di oggi vado a tratteggiare una realtà che deve essere vista in maniera pulita ed è una realtà che spaventa mi spaventa in maniera particolare perché mi fa capire fino a che punto possa arrivare la psiche umana perché gli animali pensano a loro stessi o meglio gli altri animali è presto detto quando nasce un pulcino mamma la madre uccide l'uccellino si preoccupa subito di sapere come sta quindi vada a dare da mangiare al pulcino l'idea mi dica se un gattino no fa sì che i propri gattini i propri piccoli siano bene si preoccupa istinto di conservazione della specie insito in natura gli animali gli animali si preoccupano di come stanno loro stessi e al tempo stesso c'è un aiuto che deriva anche da altri animali che non fanno parte del nucleo familiare io ho visto per esempio a casa di mia zia c'è un cane un gatto tra il cane il gatto c'è una sorta di aiuto perché se il cane sta poco bene il gatto va lì e cerca di capire cosa chiaramente è un modo utopico che io ovviamente vedo riscontro come quando il gatto sta poco bene si è nata si pone a creare diciamo così una sorta di rapporto idilliaco ma in gli esseri umani tutto ciò funziona vediamo nel dettaglio non facciamo dei figli li mettiamo al mondo siamo tutti felici e contenti bene quei figli pensiamo a loro stessi pensiamo anche a quando crescono non sempre però spesso accade questo quindi ci preoccupiamo gli diamo i soldi noi facciamo mancare nulla i nostri parenti stanno poco bene ci offriamo di andare a comprare le medicine ci offriamo di andare a svolgere le commissioni che dobbiamo fare perché siamo parenti abbiamo un legame di parentela ma se una persona dovesse incontrare un'altra per la strada sarebbe così brava di dargli i soldi di aiutarli di sopportarla facciamo finta ci troviamo a roma in una zona per esempio cento celle oppure al centro una persona cade per terra all'improvviso gli prende un attacco cardiaco quella stessa persona si avrà pure qualcuno che si preoccuperà chiamerà subito i soccorsi saranno due o tre ma il resto fidatevi di me si farà i cazzi propri passeggerà tranquillo e sereno vede che sta per terra la persona pur di non andarla ad aiutare la lascia lì stare e quella persona potrebbe anche essere morta potrebbe anche aver perso la vita no come si suole dire ma nessuno si mette nella condizione di chiamare i soccorsi o meglio sì qualcuno li chiamerà sicuramente perché ci sono anche esseri umani per bene in gambe intelligenti ma quasi certamente il menefreghismo prenderà il suo posto il menefreghismo alleggerà in maniera palese su quella persona che purtroppo è riversa a terra che ha avuto magari per sua sfortuna suo malgrado un attacco cardiaco e attenzione questo si verifica spesso quante volte per terra vediamo persone che stanno distese no e nessuno si cura c'era cosiddetta non curanza ci deve essere il cosiddetto morto per far sì che qualcuno chiami qualcuno altrimenti tutti se ne fregano tutti vivono nella loro indifferenza totale abissale e non mi venite a dire no leandro non è così andate girate napoli torino genova le grandi città italiane nel centro no trastevere al via del corso no una bella passeggiatina trova si trova magari quello per terra qualcuno chiama sicuramente ma la maggior parte sta con le cuffiette alle orecchie col telefono in mano a chattare a casseggiare a casserare a whatsappare e se ne sbatte completamente di quella persona che purtroppo ha perso magari la vita questo si chiama nefreghismo però tra noi se c'è un legame di parentela ci preoccupiamo del parente no il cugino la cugina sta male l'aiutiamo sì ci sono anche casi in cui non diamo nemmeno aiuto ai nostri parenti ci sono molti figli se ne fregano dei genitori no però molti genitori danno tutto ciò che vogliono i figli ti serve questo te lo do subito papà mi serve questo tieni tieni figlio mio prenditelo è tu invece molto spesso no molto spesso no molto spesso accade che i figli vivono tranquilli e sereni tanto hanno tutto dai genitori e genitori vengono sfruttati molto spesso dai figli ma se un essere umano ripeto fosse in difficoltà tutto ciò non accadrebbe cioè se la persona sta male nessuno gli dà i soldi attenzione io pochi giorni fa ho fatto un video sui lavastrade sulle persone di colore che lavano le strade io sono il primo ad essere diciamo così egoista e a pensare a me stesso con persone che non conosco quindi il discorso mi riguarda direttamente sono sincero io sono un ragazzo un uomo sincerissimo fino in fondo fino all'ultimo sono sincero perché a quel ragazzo che mi chiese i soldi dissi vuoi che chiami i carabinieri vattene subito via non disturbarmi sono stato sincero fino all'ultimo e ve lo sto dicendo ve lo sto dimostrando perché effettivamente io non voglio dare soldi a chi non li merita quella persona secondo me non li meritava perché spesso e pochettieri dai soldi si vanno a comprare le bibite come vino come birra come liquori e non vanno a comprarsi il pane la pasta le cose importanti no lasciamo perdere la pasta perché la pasta deve essere cotta non c'è non hanno un fornelletto chiaramente ma un pezzo di pane quanto costerà un pezzo di pane un euro ecco no invece ci vanno a comprare la birra il vino e io quando è capitato questo ho detto no io che do un euro al barbone poi si va a comprare il vino il vinello buono non ci sto le andro non ci sta come anche quelli che fanno finta di zoppicare e invece stanno benissimo camminano meglio di me e però si fanno vedere stanno male ti prego ti prego fratello dammi a me qualche soldo io sto poco bene stare col cazzo che ti do i soldi tu cammini meglio di me non zoppichi minimamente quante volte striscia la notizia tra vita e gmiglione ci ha fatto vedere al centro di roma vicino al colosseo persone che zoppicavano i cosiddetti mendicanti quando in realtà stavano benissimo camminavano meglio di te di me messi insieme ma come davanti a me ti fingi che stai zoppicante claudicante e poi cammini meglio di me sei un fuletto che è una bellezza ecco tutto io a questo dico non ci sto però ti ripeto questo è un atteggiamento che esula dal discorso di oggi è un atteggiamento mio leandriano punto ognuno però è libero di fare ciò che vuole però l'indifferenza ricordatevi che negli esseri umani esiste e secondo me esisterà per sempre stamattina ho fatto il mio lavoro come al solito mi sono visto davanti le facce no perché io passeggio per le strade mentre lavoro vedo la gente in faccia no mentre faccio questo volantinaggio e vedo gli sguardi vedo le persone e le persone tutte impegnate con le cuffiette alle orecchie e col telefono in mano ma vuoi vedere chi è davanti no tutti impegnati e tutti affaccendati in altre faccende scusate il gioco di parole ecco io a tutto questo dico non ci sto l'indifferenza umana ci sarà sempre il per far sì che un essere umano si svegli che un essere umano dà una mano a un altro ci deve scappare il cosiddetto morto se c'è il morto per terra allora intervengo allora interveniamo se no no troppo bello così però ecco io non aggiungo altro vi ringrazio per l'ascolto vi ringrazio per la visione di questo video gli animali perlomeno sono diversi da noi viene una determinata tranquilla si aiutano a vicenda e anche tra diverse specie si aiutano il cane di minassia col gatto di minassia se sta poco bene si preoccupano tra di loro c'è un aspetto chiamiamolo di simbiosi eppure sono rassi diverse bene un saluto al prossimo video